Bitcoin tenta il recupero dei 60.000 dollari ma non è solo questa la notizia importante di questa settimana perché ci sono anche dei dati relativi a dati macroeconomici di questa settimana, soprattutto quelli relativi a mercoledì, sul tasto di inflazione che saranno importantissimi e saranno i dati che guideranno un po' il mood di tutta la settimana. C'è anche un recupero importante di ETH che è arrivato su un livello tecnico migliore di Bitcoin dal punto di minimo del 5 di agosto dopo essere sceso in maniera più consistente rispetto a Bitcoin stesso, avendo creato un po' un ciclo che adesso andremo a vedere probabilmente un definibile ciclo trimestrale che è stato chiuso, quindi la attuale forza di Ethereum sarebbe perfetta in questo contesto. C'è anche un altro grafico, andare a guardare quello relativo agli ETF, che cosa stanno facendo li andiamo a vedere e poi un grafico che può essere indicativo della questione legata all'inflazione, proprio il dato macroeconomico atteso per la giornata del mercoledì 14 e un grafico che andremo a vedere oggi che potrebbe un po' svelarci quello che è l'andamento atteso del tasso di inflazione. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lancio della moneta dopo questa fase diciamo di crisi nella moneta porta male ragazzi perché dice che probabilmente scendiamo, questo dice la moneta, vediamo quante caratteristiche sono presenti in questo dato e andremo a vedere anche l'anesi ciclica perché è una fase molto importante di Bitcoin che un po' sviluppa quelli che erano i due scenari, siamo nello scenari numero uno ma dobbiamo andare a comprendere poi l'evoluzione di questo ciclo mensile. Allora, andando per gradi, prima questione, i dati relativi alla macroeconomia attesi, intanto gli indici dei prezzi alla produzione domani che possono essere interessanti perché sono previsti in leggero rialzo ma se c'è una variazione importante in i prezzi alla produzione questo impatterà poi sul tasso di inflazione quindi potrebbe comunque essere già un dato rilevante. Poi abbiamo invece il mercoledì, il giorno probabilmente di volatilità dei mercati dove andremo ad avere i dati sul mese dell'inflazione americana e anche i dati annuali dell'inflazione americana che, attenzione, è prevista al 3%, quindi identica al dato precedente, ancora troppo alta. Vi faccio vedere quello che è stato il tasso di andamento dell'inflazione dalla bolla che si era andata a creare post-pandemia. Qui abbiamo raggiunto il massimo con un'inflazione mostruosa, intorno al 9%, che poi è andata, vedete, a riallinearsi con le politiche della restrizione dei tassi di interesse, eccetera, politiche restrittive. Qui sta facendo un andamento laterale leggermente di bassista ma è sostanzialmente un laterale e soprattutto da questo mese qui, che era il mese di luglio del 2023, l'intero anno attuale non ha riportato alcuna variazione del tasso di inflazione. Cioè, l'anno 2023 il tasso di inflazione è stato il 3% e non è mai sceso, quindi è un anno che il tasso di inflazione degli Stati Uniti non sta scendendo. Questo nonostante i tassi molto alti, quindi questo significa che con grande probabilità i tassi di interesse resteranno ancora, seguiranno, diciamo, la strada che la BCE e la Federal Reserve hanno definito. Quindi quel del ribasso, magari, dell'altro taglio a settembre per la Fed e per la BCE e poi a dicembre di quest'anno. Quindi non credo avverrà un taglio eccessivo da parte delle banche centrali, aggiungendo appunto il taglio dei tassi. Anche perché qui si può andare a guardare, per esempio, le ultime rilevazioni relative a giugno e maggio erano più o meno intorno a questo 3%. C'è da dire che da febbraio il tasso di inflazione si attesta in discesa. Questo significa che, siccome negli mesi precedenti era più alto, vuol dire che i mesi relativi agli ultimi mesi, quindi quelli appunto giugno, luglio, agosto, stanno riportando dei tassi peggiori e questo fa sì che appunto l'annuale scenda per una questione appunto della media. Però in linea di massima, insomma, non sono attesi grandi shock a livello di inflazione. È possibile anche che si possa, diciamo, assistere ad un ribasso più corposo. In quel caso i mercati la prenderanno sicuramente meglio. Ecco, l'andamento, per esempio, dei mensili sul tasso di inflazione da gennaio erano positivi ancora, quindi tasso di inflazione positiva. Qui invece si azzera, infatti, da maggio. La crescita dei prezzi su base mensile si è azzerata. Addirittura qui è andata negativa e adesso vedremo, è previsto 1,02, ancora positivo, ma probabilmente sarà anche qui 0. Questo segno che il rallentamento inizia ad esserci solo dal mese di giugno di quest'anno, maggio-giugno del 2024. Bene, allora finendo questo discorso vi faccio vedere subito il grafico relativo ai tre giorni americani, quindi i titoli di Stato ventennali, che possono dare un'indicazione consistente di quello che effettivamente potrebbe essere questo dato del tasso di inflazione di mercoledì. Perché? Allora, questo è il grafico del ventennale americano che noi stiamo monitorando già dall'inizio dell'anno e che io vi avevo più volte detto essere il vero indicatore perché è un grafico che è un derivato di quello che si aspettano gli istituzionali, ma soprattutto anche di quello che hanno comprato gli istituzionali. E quindi se gli istituzionali comprano massicciamente le obbligazioni in questo momento di duration lunga come questa ventennale porterebbe a un'idea molto chiara, cioè l'attesa nei prossimi due o tre anni di un ribasso del tasso di inflazione e anche il ribasso dei tassi di interesse. Perché c'è una strategia di natura speculativa che si può attuare utilizzando proprio i titoli di Stato a duration molto alta, l'ho spiegata tanto tempo fa in un video, insomma, se riesco che lo posto in questo link nella descrizione, però ragazzi lo devo andare a trovare, quindi non è facilissimo andare a trovare, quindi poi vediamo. Allora, è l'inizio anno ed è un video che spiega tutto il meccanismo delle obbligazioni, quindi un corso, diciamo, sulle obbligazioni. In pratica qui il tasto di rendimento delle obbligazioni ventennali sta scendendo, questo è indice del fatto che l'attesa del ribasso dei tassi è imminente, ma soprattutto il ribasso dell'inflazione. Guardate qui dove si è andato a bloccare nella scorsa settimana 29 e poi la settimana del 5, 29 luglio, la settimana del 5 agosto, che ha toccato il minimo precedente, andando a configurare un doppio minimo con questa zona. Anche in questo contesto c'è un'analisi tecnica abbastanza evidente. Il breakout di questo livello del 4% del ventennale americano probabilmente porterà a un nuovo trend di natura ribassista del ventennale, che significherebbe un trend nuovo di ribasso dei tassi di interesse. Attenzione perché questo trend dall'agosto del 2020, quindi dopo la questione della pandemia, non è mai stato invertito, quindi è un trend al rialzo che non ha mai trovato un punto di inversione e anche in questo punto non è stato invertito. Tant'è vero che qui siamo non in trend rialzista, bensì in barra di congestione, una classica barra di congestione che dovrebbe a questo punto essere una barra di distribuzione di riaccumulazione del ventennale, non di distribuzione perché poi quello che vedete qui è il tasso di rendimento, ma l'acquisto dell'obbligazione avviene al contrario, quindi è come se l'obbligazione era arrivata ai minimi, non ai massimi. Il rendimento è massimo, l'obbligazione è minimi, quindi è invertito. Però in un contesto del genere abbiamo appunto la possibilità di avere una continuazione di ribasso. Questo secondo me è molto indicativo, anche per il fatto che queste due medie mobili sono state rotte in questo momento manca il breakout del 4% come livello di rendimento per dare proprio il via a questo nuovo trend che secondo me toccherà poi facilmente il 3% per poi attestarsi intorno al 2,90 che dovrebbe essere il punto di arrivo del prossimo anno proprio di questo grafico anche per un'analisi di natura ciclica ed è interessante perché indicherebbe che poi la previsione di ribasso dei tassi e anche dell'inflazione per il prossimo anno sono nell'aria e attenzione è anche possibile che questo grafico vada a indicarci che il livello di recessione potrebbe essere, potrebbe avvenire questa recessione in effetti proprio nel prossimo anno. Andiamo a vedere invece Bitcoin spostandoci sul grafico la difficoltà del re delle criptovalute dopo i ribastoni della scorsa settimana. Allora sul minimo del 5 di agosto, lunedì scorso è iniziato un nuovo ciclo mensile di Bitcoin con grandissima probabilità e in questo momento in pratica la struttura di questo nuovo ciclo mensile è andata a toccare un sette giorni. Sette giorni che teoricamente lancerebbero un nuovo ciclo settimanale. settimanale c'è da dire che la forza e nella giornata di oggi è molto blanda. Il ritracciamento della candela dell'8 agosto che aveva fatto un più 12% era normale ed era nell'aria. Da un punto di vista di analisi tecnica infatti questa struttura è un pattern che tra le altre cose ragazzi ho spiegato nei miei corsi definendolo pattern CAIMI perché è un 2-3 giorni modificato adattato a quello che è il mercato delle criptovalute ed è in pratica un pattern di ripetitività che avviene proprio nel momento in cui queste forme di rimbalzo vengono ritracciate in parte. Comunque è tutto spiegato nel mio corso Pesky 2.0 ragazzi per chi vuole formarsi, studiare, passare l'estate in un certo modo aggiungendo oltre al divertimento anche la formazione vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda il corso che vi dà non una marcia in più vi dà una Ferrari che è un altro tipo di discorso in qualsiasi cosa andiate a fare non solo nel trading ma soprattutto nel mindset relativo agli investimenti che secondo me è la cosa più importante di tutti. Allora, questo ambito qui in pratica il ritracciamento fino a questo livello era normale ed era anche un po' teoricamente un punto di buy questa cosa qui. Ora, da un punto di vista di analisi tecnica il discorso qual è? Che essendo che qui siamo in un nuovo ciclo mensile la fase iniziale di rialzo è assolutamente normale quindi questa fase di rimbalzo essendo un nuovo ciclo mensile ci stava tutto il problema e nel prosieguo di questo ciclo mensile perché questo ciclo mensile non abbiamo idea se sia il primo del nuovo ciclo annuale di Bitcoin oppure è ancora appartenente al precedente ciclo annuale è come la stessa cosa che abbiamo visto qui quando il 5 luglio era iniziato l'altro ciclo mensile anche qui sembrava il nuovo annuale poi in un certo punto si è reversato e è andato a fare un nuovo minimo che tra le altre cose ha una configurazione tecnica che in termini ciclici si definisce lingua di buyer cioè questa anomalia che praticamente è identica a una lingua di buyer e questa cosa qui. ora sostanzialmente una lingua di buyer poi ha bisogno di una conferma anche se è un annuale io sono sempre con i piedi di piombo però se fossero infetti proprio questa configurazione a livello ciclico lancerebbe appunto il nuovo annuale però qui non abbiamo ancora una tranquillità certo già il superamento dei 63.000 dollari se avverisse insomma in questo modo per il raggiungimento di questa zona di massimo nuova di bitcoin quella relativa a pochi giorni fa poche settimane fa 67 circa inizierebbe a far scorrere il lago della bilancia sul fatto che qui sia iniziato effettivamente il nuovo ciclo annuale al momento invece la struttura dell'andamento della price action di bitcoin non ci dà nessun tipo di informazione su questo discorso e quindi questo ciclo è sicuramente un nuovo mensile non sappiamo se è il nuovo dell'annuale o è del vecchio ma la differenza è enorme perché se è del vecchio annuale questo ciclo mensile sarà ribassista ora vi dico anche cosa cosa intendo con ribassista se invece è il nuovo del nuovo annuale sarà o potrebbe essere appunto rialzista e la differenza è praticamente completa perché è come il cielo e la terra cioè stiamo parlando di due cose completamente opposte quindi è molto importante soprattutto assistere nei prossimi giorni al tentativo di bitcoin di ritornare a fare una gamba rialzista perché questa gamba rialzista non ha alcun tipo di significato in questo momento in quanto è il rimbalzo del ciclo mensile è avvenuto anche nei primi giorni è avvenuto anche in maniera impulsiva questo di solito è negativo perché porta a un ciclo ribassista e quindi è pericolosissimo se il massimo resta questo qui per tanto tempo questo ve lo dico in maniera molto chiara è molto semplice cioè se entro 3-4 giorni non andiamo a tentare di rompere nuovamente questo massimo ai 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 è molto pericoloso ecco poi dovremmo appunto controllare insomma capire un po' dopo come fa se fa una roba del genere e perde troppo tempo insomma diventa una cosa pericolosetta al momento siamo a 7 giorni considerate un ciclo mensile dovrebbe essere intorno ai 30 come il precedente forse un po' qualcosina in più e portarci intorno al 8 di settembre per la chiusura di questo ciclo vi ricordo che dal mio video quello relativo ai 4 grafici più importanti e nel mese di agosto e settembre le previsioni relative a settembre e ad agosto non erano floride perché agosto è un mese solitamente non positivo per bitcoin e settembre è invece un mese di solito negativo per bitcoin è l'unico praticamente dell'anno che ha una serie storica negativa quindi tendenzialmente dovremmo fare molta attenzione secondo me cosa significa settembre negativo significa che potremmo partire dall'alto a settembre i primi settembre e chiudere in basso questo è quindi dovremmo fare una zona di recupero poi alla fine del mese di agosto per partire con un settembre molto alto per poi andare a indebolire e fare un mese insomma negativo anche a settembre possibile questa cosa? sì poi lo vedremo però dovremmo capire un po' l'andamento di questo ciclo mentile quindi ciclo mentile la cosa più importante secondo me da valutare in questo momento per quanto riguarda bitcoin da un punto di vista della media che vedete qui a chi piace questa media la 200 periodi è stata breccata teoricamente in questo punto e qui c'è stato il pullback della 200 periodi che non è una cosa estremamente positiva io uso la 274 perché diciamo ho creato un altro tipo di media mobile tempo fa l'ho spiegata nei miei vari video ragazzi dove in pratica mettevo a confronto la media 200 periodi classica con il fatto che bitcoin resta aperto anche sabato e domenica e quindi doveva essere modificata il parametro dei periodi della media mobile per essere paragonata ad una media vera 200 periodi e quindi uscirebbe la 274 andatevi a spulciare i mille video che ci sono sul canale ragazzi per trovare questo video ma è da qualche parte allora la 274 in questo contesto vedete ha fatto solo un touch e poi recuperato quindi ancora questa media non è breccata io vi rimetto la classica a 200 periodi così senza diciamo creare molti molti diciamo dubbi su questa cosa secondo me siamo in un limbo in mezzo a queste due medie il breakout non è assolutamente positivo ma è anche vero che questo tipo di media mobile vengono rotte proprio in fase di chiusura dei cicli annuali così come è stata fatta per esempio qui la stessa identica cosa e anche qui sembrerebbe la stessa identica cosa qui è leggermente più pronunciato però ci sta in questa fase quindi occhio attenzione proprio ai prossimi giorni per la valutazione di questo ciclo attuale i livelli importanti sono il recupero del massimo a 63 mila dollari qualora non dovesse avvenire una debolezza del mercato in questo mensile potrebbe configurare un mensile ribassista che dal mio punto di vista avrebbe molta più probabilità di fare una roba del genere cioè di andare a chiudere con una close daily dentro questa shadow qui va bene segnatevi queste parole cioè andare a chiudere una close daily se è ribassista questo ciclo dentro questo spazio non andare a rompere questo livello di minimo bensì fare un andamento del genere per poi chiudere in pratica qui dentro e poi iniziare una nuova struttura ciclica in pratica deve chiudere dentro questa shadow una candela daily e quello per me sarebbe anche significativo della realizzazione di un mensile ribassista che chiude anche un ciclo bimensile o una specie di trimestrale vi ricordo che tra le altre cose da questo livello del 5 luglio è iniziato anche un ciclo trimestrale per bitcoin ciò significa che o questo mensile è una lingua di buyer che ha chiuso l'annuale o qui c'è solo una strada da fare ed è questa qui non c'è un'altra soluzione quindi l'unica variabile che porta a una struttura riazzista di bitcoin è che questo andamento ciclico sia una lingua di buyer dell'annuale e ci sta perché i tempi ci sono assolutamente può essere questa cosa ma se è una lingua di buyer ce ne dobbiamo accorgere perché il superamento dei 63.000 dollari 64-63.500 quella zona lì per bitcoin dovrebbe essere all'ordine del giorno e dovrebbe farlo entro pochissimi giorni se già inizia a non farlo e perde tanto tempo i rischi aumenteranno e aumenteranno tantissimo bene fatemi sapere anche voi cosa ne pensate da questo punto di vista io vi lascio con un buon inizio settimana a tutti e vediamo che combina il re dell'eclitto proprio nei prossimi giorni ciao ciao